Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel nuovo video di Yukemaname2 Ecco che adesso andremo a affrontare a Brookidohaga Allora, per questa volta utilizzerò il deck di rinità La utilizzerò il deck delle divinità egizie Allora... Andiamo un po' Angelo splendente, via Questa e poi quest'altra Oh ragazzi, ho provato a battere Brookidoh Non so quante volte Ma ho perso due o tre volte Se non mi sbaglio Am veramente... Am veramente delle carte fortissime Allora... Evochiamo questo qua Forse il predatore Vediamo che possiamo evocare Allora... Mi sa, mi sa che... Vediamo quasi Sì, sì Faccio sì E' proprio questa qua Farfallo operativo Perfetto Attacchiamo subito Ok, va bene Allora... Il punto debole di Brookidohaga E... Pretendente no Dobbiamo attaccare velocemente Ehm... Su di lui Perchè sennò Più lo lasciamo stare Logicamente Più carte avrà da Contrastarci Quindi fate il possibile Di distruggerle Come ragazzi Vi ringrazio sempre Del... Del vostro commento Per le... Per la vostra partecipazione Al video Ultimamente Mi state aggiungendo parecchie Su... Sulla PlayStation Su PSN Però purtroppo Dico purtroppo Perché non riesco a rispondere Tutto insieme Adesso Ultimamente ogni giorno Mi arrivano tre o quattro richieste E... Non riesco a rispondere A tutti quanti Quindi farò il possibile Per... Per rispondervi Però se sono anche lento A scrivere Allora mi tocca Scrivere manualmente Con... Con un joystick Non sono molto pratico Allora vi prego di scusarmi Visto che non riesco a rispondere A tutti Però dico Se mi dovete fare delle domande Ragazzi E' meglio se andate Nella mia pagina Facebook E mi fate lì Le domande Io vi rispondo facilmente Da lì Se no... Ehm... Oppure sotto L'ultimo video Che ho fatto Però vi dico che E' meglio da lì Così io posso rispondere tranquillamente Perchè qua sulla Playstation Non riesco mica Specialmente... Visto che siamo in tanti adesso Se mi fate questo piccolo piacere Guarda sono contento Così riesco a rispondere anche a voi Allora... Vediamo un po' cosa sta facendo lui Vado ad attaccare Sì lo utilizziamo forza riflessa va Perfetto Abbiamo sconvitto Perfetto Abbiamo sconvitto A... Brughido Basta che avviate la carta Forza riflessa O cilindro omaggio Per contrastare E subito vingerete il duello Ok le carte seguente Che abbiamo sbloccato Sono queste qua Ok... Niente di speciale Bene ragazzi Vi ricordo sempre di lasciarmi un commento Di andare a visitare il forum di Yu-Gi-Oh! Online Se non lo avete già fatto andateci Ehm... Lasciatemi un commento come sempre sotto il video Mettete un bel mi piace Mi raccomando E che dire ragazzi Ci vediamo al prossimo video Ciao! Ciao!